Tutto l'uomo che l'ho mai mangiato Dove andiamo? Possiamo di mangiare troppo Non è seria Stai a sentire una palla qua, guarda Dove? Stai lì appuntato? Guarda dove c'è una palla Stai a sentire un gatto Qua c'è un botto L'astra L'astra Dio eh Buttati Non c'è niente lì Ah ecco Alla baia che abbaglia Poi di solito c'è il bordello eh Vediamo Questa volta sembra non c'è nessuno Ah no Ma sono altissimi Ma sono altissimi Ma dove fa quello la? Vado avanti Ma eh Si gira In 2 secondi Alla 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 Che io sappia no Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Questa Alla Dobbbero cambiare tutto Ma non lo so Cambio stagione Mi sembra Infatti non fanno più un cazzo Ma gli sono una belle roba E prima adesso non fanno più niente O sono maledetti si, peccato si andiamo? si è morto? si, si sta arrivando assi che giuse? che cazzo fai? ah no di bidoni no? non c'è i bidoni lì? perché non ve li hai fatto? vieni, vieni, vieni vieni, vieni, vieni spicciate questa rivanda via di qua corretta, non c'è più tempo, è finita oh merdo ah no no no, mi ha preso no è l'acqua che sta tristendo la vettina è l'acqua che sta tristendo la vettina no no mi perco giusto devo curare cazzo curatevi no questo cosiddetto se qua ci sono le no non avete chiave no qua sopra ma c'era quello delle chiave una volta no mi sono a soldarlo questo mi sono a soldarlo questo eh lo piglio oh c'è spruzzino mi ha dato per la vita non lo voglio tenere a prenderlo però qualcuno qua cosa? cosa della vita cosa che c'è? vieni vieni no andati via dai avevo lasciato pure l'arma viola arrivo eh ti spargo occhio ecco c'è uno che fa c'è uno che fa spire dove è? ecco la è morto è morto è giusto però è morto è morto ecco le sento sparare ecco le qua dai un colpo ma sempre per un colpo si salva non è possibile ogni volta è morto ci fa ooo cazzo è andato tutto maledetto qui da quelli oh non l'ho preso ancora una volta che mira di merda io posso giocare ci sei abbonato o Mattia mi giocare non muoiono mai come? il bot mi ha ucciso il bot quello la mia mi ha fregato la uccisione non c'ho parole i cazzo di gente c'è qua madonna io vado a letto che cazzo di una notte per due ore e mezza mi ha fatto male devo dire ma c'è stato un lama c'è qualcuno raga eccolo ho visto uno mi sono buttato giù mi sono buttato giù giuse sembra che casca ogni volta l'ender è abituato a fare il gioco di merda guarda qua c'è lei madonna raga ma giuse ma ti sta curando il mio coso c'è? c'è il kit se vuoi prenderlo guarda qua c'è il kit se vuoi prenderlo oh raga dobbiamo andare guarda qua c'è il kit se vuoi guarda qua c'è il kit se vuoi prenderlo guarda qua c'è il kit se vuoi prenderlo guarda qua c'è il kit se vuoi cercare l'ambiente guida guardami non lo faremo mai raga non avete preso neanche la carne e quindi dovete pigliare la carne però adesso muore poi chiede lo spruzzino vieni vieni vai 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 no dov'è che vai? nooo ti stavo curando ti lascio il dai ma che cazzo capito perché ti ha lasciato adesso quando lascio la roba mentre ti ma non era così comunque hanno cambiato qualcosa uso lo spruzzino subito curati ho lanciato un kit dentro la save no no vieni guarda 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 дух wanted connect guarda il pour de partire one partire una попад hombre da me venta qua chiché tu qua Scusi ma che cazzo hai sparato? Ah è il coso! Cosa? Ah, prendiamo il rift! Scusi ma che cazzo! Cazzo ma... Ancale... Io dovrei andare qua... Sopra qua... Ma hai preso il coso? No! Stavo scivolando giù porca! Con quel fango di merda! Ah gli ho fregato l'uccisione a quello! E' pieno di gente ne te lo dico eh! Non lo colpisce cazzo! Quasi morto eh! Ma non c'era un altro c'era nera qua! Eccolo! Colpo di manca eh! Detro l'albero porca puttana è andato! Un altro cazzo! Ok! E' un altro cazzo! E' un altro cazzo! Un altro cazzo! Un altro cazzo! guarda, vediamo bene non c'è questo bagliore viola? che cazzo bello? ah? cos'è? bagliore viola no, bagliore viola quello lì è il cosa, come cazzo si dice il potere non c'è nessuno non c'è nessuno è tutto bello ma che cazzo io prendo la bomba qua viola che cazzo ah, c'è uno spasso viola qua 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 oh mi spara figliati si stanno rossa che c'è gente qua dove? qua sono un po' non sono bot che ti lo dico non li vedo da qua da dove? da dove mi spara? da là più o meno non lo vedo non lo vedo non lo vedo da qua ah io ho visto io le risponde di... gustiamoci tu qua ecco lo vedo non lo voglio da ah ah muro qui io bene però c'è il bot però ah cazzo non lo vedo da qua no no li come facciamo a cularti ma da sopra ma da dove cazzo si spara? ma da dove si spara? ah ah non lo capisco no ma non ce la fai a cularti da eh prendiamo la scheda almeno non capisco da dove ma dov'è che è? è la sinistra non capisco da dove ecco uno è la uno è la dietro ma traccato eh non è ancora dobbiamo andare dobbiamo andare dobbiamo andare male vieni facciamo in due ma aiutami facciamo prima ecco c'è uno che si spara che si spara no ah 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 coglioni li attenta che ci sono quelli che si spara te lo dico eh non dico uno massacratissimo ma te lo dico eh stanno passando da destra tutto il giro dentro eccolo infattuto c'è il botto che vuoi curare eh no questi sono gli altri sono qua e la parte no dai da dietro qua no 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 scusa ma ma gli altri che tirano qui mi hanno fatto non vedo dove sei morto atto non non dai oh dai 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 ciò faremo c'è qualcosa che vuoi no eccolo no l'ho quasi ammazzato bro c'è un altro ancora eh non so se no l'ho quasi ammazzato bro non so se c'è uno dietro no no c'è uno dietro no però quello glielo dice che mi stai curando eccolo eccolo vaga dietro io giuse però grande giuse grande giuse